Dopo il via libera del Consiglio Comunale di Pescara alla richiesta di presidi militari in città per contrastare i tanti episodi di violenza registrati negli ultimi mesi, ora la parola spetta al Governo, con i ministeri di competenza coinvolti attraverso una serie di passaggi amministrativi che il sindaco Carlo Masci spiega al Tg8. Il Consiglio Comunale ha approvato una mozione che non prevede soltanto la richiesta del progetto Strade Sicure, ma prevede altri interventi molto importanti sulla città. Innanzitutto l'elevazione della questura di Pescara a classe A, questa è una cosa veramente significativa perché Pescara non è soltanto una città di 120.000 abitanti, Pescara è una città che ogni giorno dà servizi a 300.000 persone, è una città dove ci sono tutti gli enti pubblici e tutte le istituzioni di livello regionale, quindi è necessario che anche la questura abbia un livello elevato e questa è una richiesta molto importante, così come l'altra richiesta è quella di confermare l'aumento dell'organico degli agenti di Polizia di Stato estivi anche nel periodo invernale, quindi vuol dire altri 30 agenti su Pescara. Di questo abbiamo parlato con il prefetto e con il questore, proprio stamattina ho sentito nuovamente il prefetto, ma lo sento quasi giornalmente, così come sento il questore. Lui ha stabilito di convocare un comitato per la sicurezza nei prossimi giorni, in cui si parlerà proprio della mozione e in cui si esamineranno tutti quanti i punti che sono contenuti in quella mozione, per poi fare la richiesta al Ministro, sia al Ministro Piantedossi che al Ministro degli Interni, sia al Ministro Crosetto che è il Ministro della Difesa. Io credo che alla fine certamente arriveranno nuove soluzioni per Pescara, visto che c'è la necessità di rafforzare tutti gli organici legati alla sicurezza e alle forze dell'ordine, per tutelare sempre di più una città che continua a espandersi e che è diventata sempre di più il punto di riferimento dell'Abruzzo, di tutte le attività che sono necessarie per una regione sempre più performante. E questo faremo. Dall'omicidio di Christopher Thomas Luciani alla sparatoria dei giorni scorsi davanti al Maia, preoccupa in città l'esplosione di violenza soprattutto tra i giovanissimi, ma mentre il Governo cittadino è impegnato a portare avanti la richiesta di intervento militare, le opposizioni si dicono contrarie. Con l'esercito a Pescara il Comune ammette il proprio fallimento, tuona con una nota il Partito Democratico, che già ieri aveva espresso perplessità per bocca del deputato PD Luciano D'Alfonso, appellatosi al Prefetto. Chiedere l'esercito non è solo l'ammissione di un concreto fallimento del proprio operato e della vulnerabilità sempre negata di Pescara sul fronte della sicurezza, dichiarano oggi Antonio Di Marco e Marco Presutti, consiglieri regionale e comunale del PD, ma è soprattutto una resa. Dopo la morte del giovane Christopher ci sembra che non sia cambiato nulla rispetto agli impegni presi con la città due mesi fa dopo quel terribile omicidio, continuano i consiglieri, e non sarà certo l'esercito risolvere un problema che ha sfaccettature non solo di ordine pubblico, ma anche sociali e culturali. Serve un'azione che non abbiamo visto concretizzarsi in questi ultimi anni, nonostante i tanti annunci, concludono i due DEM.